Estorsione a Taranto, nella rete i padroni di Tramontone sono stati arrestati dai carabinieri Daniele, Leone, Luca Fontana, Arcangelo Palombella, Giuseppe Liddi, Domenico Salamina, tutti finiti in carcere. Altri tre sono finiti invece ai domiciliari, Francesco Leone, Giuseppe Chiulli e Giovanni Longo. Otto ordinanze di custodia cautelare a firma del GIP del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto su richiesta del PM Remo Epifani. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, con l'aggravante per alcuni di aver commesso i reati seppur già sorvegliati speciali. I precedenti che i soggetti avevano consentiva loro di ritenersi un po' una sorta di padroni di Tramontone, che era l'area presso la quale la maggior parte dei soggetti vivono, e quasi garantirgli un'impunità.